Sono i classichi si... i classichi... sono i classi... sono i classici... L'idea per questo video, l'idea di questo video, l'idea per... l'idea per questo video La battaglia è stata vinta dalla matita della Make Up For Ever Eh sì... no... è quella della Babi Jacob Iniziano ad aprile... ad aprile? Ma perché sono sempre cinese quando parlo? Ho aspettato così tanto, oggi l'ho provata per la prima volta e tipo... cioè... dobbiamo tenerci perché... E ovviamente quando inizio a filmare, l'ambulanza Del Glow... Glow... e del Blend... e del Blend... e del Blend Cine Zimbabwe Una matita nella bella in testa, vi consiglio quella della Make Up For Ever Perché dico sempre Make Up For Ever? Quando vi devo consigliare quella della Marc Jacobs È quella della Marc Jacobs, la vincente di questa battaglia Francesca Insieme per la prima volta la Soft Glam Dall'altra parte Francesca La tuta... la tuta a tua... a tua? a tua Una zebra tua Perché i miei capelli stanno crescendo Però voglio che non solo Voglio non solo farli crescere Ma li voglio farli cre... I miei capelli stanno crescendo Però non li voglio far solo Non li voglio Oddio I miei capelli stanno crescendo Ma non li voglio far... Ma porca troia I miei capelli I miei capelli stanno crescendo Ma non li voglio far crescere solamente sani Li voglio far crescere anche... Non li voglio far crescere lunghi Francesca lunghi Ciao ragazzi Basta E praticamente mi si è formato Tipo un grumolo Un grumolo Ragazze Ma porca troia Ogni volta che filmo Questa volta preveriamo... 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 Mettiamo a conf... Se mettiamo a conf... Il burro cacao Francesca si chiama Burro cacao Burro cacao Comunque questo qui è il trucco che mi vedete Cosa che mi vedete? Cosa significa? Questo qui... Perché sono dislessica Questo qui è il trucco che ho ricre... Questo qui che mi vedete... Questo qui che mi vedete addosso è il trucco che mi vedete addosso L'unica matita che io... Ma di nuovo... Grazie a tutti.